Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Arezzo. Il prossimo 15 settembre Giuseppe Ligato lascerà infatti la guida nelle mani di Vincenzo Francese. Questo è stato un periodo per me esaltante dove ho cercato di profondere il massimo impegno. Quando sono arrivato mi sono reso subito conto che si trattava di una provincia sana, di gente operosa, alla quale dovevamo assicurare il massimo sostegno possibile. Nel corso di questi tre anni abbiamo cercato di migliorare i servizi a livello preventivo e anche repressivo. I risultati sono stati lusinghieri, nel corso di questo periodo sono state tratte in arresto quasi mille persone, ne sono state denunciate molte migliaia e comunque siamo riusciti con la collaborazione di tutta l'arma dei carabinieri, di tutto il personale presente sul territorio a ridurre anche l'incidenza criminale della zona. Ligato era arrivato ad Arezzo il 27 ottobre 2016, numerose le attività e le operazioni che portano alla firma del colonnello e che hanno riguardato in questi tre anni il territorio aretino. Quasi mille infatti le persone arrestate, d'oltre 8 mila quelle denunciate, nell'ambito del contrasto degli episodi di microcriminalità reati contro il patrimonio e diffusione di sostanze stupefacenti tra le operazioni di maggior rilievo, indubbiamente Rottweiler nel 2016 e la più recente Nigerian Connection, conclusasi con l'arresto di un gruppo di richiedenti esilo di origine africana. Altissima anche l'attenzione rivolta al fenomeno della violenza di genere, con migliaia di interventi che hanno portato in tre anni a 41 arresti, 381 persone denunciate e 72 provvedimenti cautelari adottati. Altrettanto l'impegno a tutela delle persone più vulnerabili come malati ed anziani, un'attenzione che nell'aprile 2017 aveva portato alla scoperta dell'ospizio degli orrori a Castel San Nicolò e all'interrezione dall'esercizio della professione sanitaria per un anno nei confronti di Seios. Giuseppe Ligato adesso lascerà la città per assumere l'incarico di direttore della motorizzazione presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Andrò a Roma, al Comando Generale, dove non tratterò più le questioni relative al controllo diretto del territorio ma la gestione dell'Arma dei Carabinieri in senso generale. Al suo posto da domenica Vincenzo Franzese che proviene invece dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale di Roma.